buon pomeriggio buon pomeriggio a voi allora due giorni fa quando ho iniziato a parlare dei maneskin dei loro fans mi hanno attaccato duramente dicendo se non ho altro da fare nella vita che non appunto attaccare i maneskin che per loro sono l'orgoglio del nostro paese di vergognarmi ora vedete io chi mi conosce lo sa cerco di commentare dei fatti che ritengo importanti nella nostra quotidianità da un punto di vista politico e non solo tra l'altro tutti questi personaggi che di solito ho avuto modo di citare fanno attivamente politica e solo dei politici perché quando dei gruppi musicali degli artisti degli scrittori dei filosofi commentano la politica del nostro paese siccome hanno spesso a loro disposizione uno spazio molto ampio intervengono nei talk show hanno un largo seguito voi capite che influiscono ed influenzano la vita politica e le politiche nel nostro paese quindi fanno politica ora vedete non sono io ad avercela su una volta con i maneskin una volta con il tal politico una volta con il tal giornalista ma se questi personaggi si macchiano di fatti talmente gravi io non posso che commentarli poi se il fatto sia grave o meno grave il giudizio lo lascio a voi chiaramente ora come da titolo oggi vi parlo di questa incredibile uscita perché per me è incredibile da parte di fedez che in una sua trasmissione dove tra l'altro c'era anche è anche presente il giornalista anunzio che conduce quella trasmissione quel giallo del venerdì su rete 4 ecco in questa trasmissione il tema erano tutte le cose che sono successe in nostri paesi crimini e vari fatti eclatanti e il tema si verteva su manuela orlandi vi ricordate per quei pochi che non conoscessero i fatti manuela orlanda orlandi questa cittadina del vaticano che circa 40 anni fa fu rapita e mai più ritrovata se ne dette di ogni si sono fatte ricerche ma manuela orlandi non si è mai più ritrovata né in vita e neppure in in morte e i genitori hanno sofferto come qualsiasi genitori in questo caso per tutta la loro vita il padre è morto davvero con atroci sofferenze nel 2004 76 anni senza mai sapere la verità e suo fratello di manuela orlandi continua coraggiosamente imperterito a cercare una verità e solo i genitori che hanno subito questi questi fatti nella loro vita sanno quanto è importante perlomeno sapere sapere la verità venire a conoscenza realmente di come sono andate le cose ed ecco fedez si è permesso di fare una battutaccia che non voglio ripetere e ha aggiunto gravità a gravità finendo con una grassa risata per quanto riguarda l'uscita infelice che lui ha avuto allora vedete queste cose le commette un essere umano un individuo solamente se è un cretino un ignorante o un arrogante scegliete voi quali di queste tre cose perché una persona con un certo tipo di cultura con un certo tipo di sensibilità c'è una cosa del genere non la pensa neppure e figuriamoci se la dice se la dice ma questo è fedez questo è sono tanti altri suoi colleghi nel mondo dell'arte dello spettacolo della musica e io continuo a dire che non è casuale che arrivano ad avere quel successo perché al di là di tutto non secondo il mio parere che io non ho mai giudicato l'aspetto artistico di questi personaggi quindi in questo caso e come anche nei maneskin le loro capacità musicali però ci sono tanti che da quel punto di vista dove sono molto autorevoli cioè non è che li hanno dipinti come dei veri fenomeni quindi quello che io mi dico molto di del successo è voluto da chi sta dietro a questi personaggi e poi purtroppo lo sia sappiamo anche come è un po il mondo dei giovani facilmente influenzabili e seguono questi influenze che hanno un potere immenso talvolta molto di più di vari politici ora io quello che che mi domando e talvolta anche voi lo scrivete che questi personaggi dovrebbero magari subire sulla propria pelle delle cose per capire com'è la vita e quali sono le difficoltà ma io credo di no perché voglio dire adesso vi ricordate quando non tanto tempo fa fedez ha dovuto affrontare un problema di salute importante e apro una parentesi io sono stato assolutamente solidale con lui io ho fatto un video potete andarvelo a ritrovare perché tutti i miei video sono sul canale io assolutamente in quel momento ho avuto parole di di conforto nei confronti di fedex di fedez però è chiaro è evidente che se uno ha questi comportamenti vuol dire che anche queste cose non l'hanno cambiato e questa è la cosa grave perché rispetto a quello che noi affrontiamo nella vita rispetto a quello che ci succede noi dovremmo cambiare la nostra vita io sono una persona normalissima con tutti i miei difetti però per farvi un esempio io che fino a qualche anno fa ero molto come questi magari avevo un po più di sensibilità perché questa è una cosa personale però mi occupavo poco degli altri ha cambiato la mia vita la nascita a 56 anni di mia figlia cioè quindi certe cose che ti capitano nel bene e nel male nella vita dovrebbero cambiarti e da allora mi impegno perché penso da un lato ovviamente a mia figlia ma in generale ai giovani e al futuro dei giovani e perché me la prendo tanto rispetto a quello che sta succedendo perché non ci sono assolutamente delle basi non solo da un punto di vista economico ma di tutto il resto delle libertà per quanto riguarda il futuro e quindi dei giovani e quindi ho pensato e penso di dover dare un impegno personale invece ci sono questi personaggi che secondo me non imparano mai oltre a essere senza voler fare di tutto un erbo un fascio mediamente di una ignoranza incredibile ma veramente incredibile a meno che non ci sia dietro anche cattiva fede non ci sia dietro dell'altro lascio a voi ovviamente il giudizio con questo vi saluto vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi